Gli esseri umani sono come bestie animali Liberarli vuol dire renderli consci della propria condizione di schiavitù e quindi destinarli alla sofferenza E che posto è questo? È un posto che ci vengo io È una sfruttatrice ed è una stronza Pensa che siete delle bestie Perché mi hanno rapito E dentro in quanti ci vivete? La mezzadria è finita da tantissimi anni ora ci stanno i contratti le regole gli stipendi E te sparisci così invece di lavorare? Le regole incristo Lassaro Grazie a tutti.